Grande Fratello, Barbara D'Urso, le prime tensioni e paure in studio Ritorna una nuova edizione del cancelletto Grande Fratello. La versione Nip andrà in onda dal 17 aprile 2018 su Canale 5 vedrà la conduzione di Barbara D'Urso. Dopo un corteggiamento serrato da parte di Mediaset, la conduttrice di Domenica Live ha scelto di riprendere in mano le redini della trasmissione che aveva già condotto per tre stagioni con grandi risultati d'ascolto. Ma ad un noto portale ha confessato di aver paura, ho molte cose da fare e ho tanta paura, e virgola non è una sfida facile, è molto complicato per me, ma c'è grande sintonia tra me e gli autumni. Ma vediamo più nel dettaglio le prime anticipazioni del reality show. Anticipazioni 15 grado edizione del reality show condotto da Barbara D'Urso Manca poco per rivedere il Grande Fratello 2018, dopo tre anni di assenza. . Infatti nel 2016 si è deciso di abbandonare la versione normale per passare a quella dei VIP. . Come annunciato giorni fa da Cancelletto Barbara D'Urso, il cast del noto reality sarà composto da concorrenti non famosi e da quelli già famosi. . Secondo il settimanale Spy, nel cast potrebbero esserci Ginevra Lambruschi, fashion blogger, Michael Terlizzi, Marco Cucolo, fidanzato attuale di Lori del Santo, Carina Cascella, Gwendalina Tavassi o Andrea Cerionio. . . Gli opinionisti in studio saranno Platinette, Malgioglio o Luxuri. Grande Fratello, tensione tra Barbara D'Urso e Ilari Blasi secondo le ultime indiscrezioni, ci sarebbe parecchia tensione tra Grande Fratello VIP e Nepp. . Il problema sembrerebbe risiedere nella varietà del cast che, secondo alcune voci prima diffuse e poi smentite, poi nuovamente condivise da qualcuno, potrebbe essere composto da personaggi già noti. . Come l'avrà presa cancelletto Ilari Blasi, al timone da due anni nella versione del reality show con personaggi famosi? Sembra che la conduttrice romana avrebbe manifestato tutto il suo disappunto sull'idea di far entrare personaggi noti nella casa più spiata d'Italia. . Tutti questi pettegolezzi però andrebbero a contrastare quanto dichiarato da Mediaset, la quale smentisce categoricamente di inserire nel cast nomi già noti nel rispetto della tradizione del programma e per non creare sovrapposizioni con l'edizione VIP. . . Così, a distanza di 14 anni dal suo ultimo grande fratello, Barbara D'Urso è pronta a sfidare se stessa. . L'appuntamento è cambiato. . . La prima puntata andrà in onda martedì 17 aprile 2018, anziché il 23 come annunciato precedentemente. . . . . . . Grazie a tutti.